Cinque libri di Esu, la regina del giallo, Agatha Christie. Amici lettori e lettrici, è novembre, arriva il freddo, le giornate si fanno più buie, e beh, per me novembre è il mese del giallo, per cui approfitto di alcuni nuovi arrivi per mostrarvi alcuni libri della regina del delitto, la first lady del crimine, Mrs. Agatha Christie. La cui vastissima produzione è nota soprattutto per due figure di detective non ufficiali, diciamo, Hercule Poirot e Miss Marple. Ma Agatha Christie non scrisse solo romanzi e racconti brevi, anche pièce teatrali, per cui partiamo da qui. Il teatro di Agatha Christie opera in due volumi, questa edita da Mondadori, questo in particolare è il volume numero due, che contiene i testi Testimone d'accusa, Trappola per topi e Il rifugio. Comprende, guarda caso, una delle sue opere che preferisco, quella che è stata giustamente definita l'opera teatrale più messa in scena nel mondo, Trappola per topi. Pensate, dal 1952 continuò a essere portata in scena, senza interruzioni in un teatro del West End londinese, fino a marzo 2020, quando fu bloccata per causa di forza maggiore, il lockdown causato dalla pandemia di Covid. In realtà, Trappola per topi, o meglio ancora, tra topolini ciechi, come viene chiamata in questa edizione, nacque come una pièce radiofonica. E la storia è anche curiosa, fu letteralmente la regina madre, Queen Mary, a richiedere, come festeggiamento per il suo ottantesimo, di ascoltare via radio una commedia della Christie. Per esaudire il desiderio dell'amata sovrana, Agatha Christie, scrisse Tre topolini ciechi, che divenne poi spettacolo teatrale e in seguito racconto breve. Si tratta di un who done it, con un twist finale davvero succoso, che fu, tra l'altro, ispirato da un vero fatto di cronaca inglese. I libri di Agatha Christie sono dei puzzle, degli enigmi, con settings spesso anche molto simili, ambientazioni in case di campagna, in situazioni di ritrovo della media borghesia, eppure vi è sempre qualche sagace innovazione che riesce a non renderli mai noiosi. Oltre 40 anni di scrittura e il risultato è che nelle sue opere traspare in controluce la storia sociale dell'Inghilterra. In un certo senso dobbiamo ringraziare sua sorella Margaret per questa florida produzione. Christie, infatti, si cementò per la prima volta con la costruzione di una detective story a causa di una sfida nata tra lei e sua sorella Margaret. Da questa nacque la prima storia di Poirot, Poirot a Stiles Court. Ma cosa poteva saperne una signorina ad alta borghesia come lei di veleni? Tanto! Sembra che imparò questo e altro offrendo il proprio servizio come infermiera durante il primo conflitto mondiale. Per avere uno spiraio nella vita vera della scrittrice, che avete già capito ha parecchio da raccontare, ho ben due libri da proporvi. Purtroppo però c'è un mistero che neanche la sua biografia potrà mai sciogliere. Quello della sua scomparsa nel 1926. Fu un anno terribile per la scrittrice. Si trovò ad affrontare la morte della madre, seguì un periodo di forte depressione e a questo si associò un forte stress lavorativo da overload. Non solo, ma il suo matrimonio cominciò a dare segni di cedimento finché il marito, che nel frattempo si era innamorato di un'altra donna, chiese il divorzio. La situazione non era certo tra le migliori quando nel 1926, dicembre del 1926, Agatha Christie scompare. La sua auto fu trovata in una cava e, come potete immaginare, essendo già famosa all'epoca, la scomparsa divenne un caso nazionale. Sembra che anche Sir Arthur Conan Doyle, ebbene sì l'autore di Sherlock Holmes, che a differenza del suo personaggio a quanto pare era un grande sostenitore dello spiritismo, portò un guanto di Agatha Christie a una medium affinché aiutasse la polizia a rintracciarla. Comunque, una decina di giorni dopo, Agatha Christie fu finalmente trovata. Era sana e salva in un albergo ben lontano dal luogo dell'incidente, registrata, pare, sotto il cognome dell'amante del marito. Come ho detto, se pensate di trovare una spiegazione nella sua biografia, purtroppo rimarrete delusi. Agatha Christie ha sempre evitato l'argomento. Le opinioni sono tantissime, dal tentativo di farla pagare al marito all'amnesia da mental breakdown. In ogni caso, quel che è importante è che Agatha Christie divorziò. Poco male, verrebbe da dire, visto che presto incontrò e sposò l'archeologo Max Malowan, 14 anni più giovane. Anzi, forse la vena romantica che Christie rivela nei suoi romanzi rosa la dobbiamo proprio a Malowan. Christie, romanzi rosa? Ebbene sì, ne scrisse ben sei, sotto lo pseudonimo di Mary Westmacott. Tornando alla sua vita, comunque, in Viaggiare è il mio peccato, si possono leggere gli appunti di viaggio di Agatha Christie che teneva nei suoi soggiorni in Medio Oriente dove seguiva il secondo marito durante le campagne di scavo. È una breve e leggera raccolta, un resoconto autentico e anche umoristico della vita durante queste spedizioni e offre anche uno spaccato del Medio Oriente, della prima metà del Novecento, visto attraverso gli occhi di una signora della media alta borghesia inglese, con tutte le sue contraddizioni. Ma non credete, era una temeraria. E visto che parliamo di viaggi, chi non conosce Assassinio sull'Oriente Express? È il primo risultato dei viaggi in Medio Oriente della scrittrice. E credo che Christie sia riuscita a far innamorare tutti noi di questo treno. Era il treno dei re, come lo definisce anche Oreste del buono in una prefazione. Numerosi sovrani ci percorrevano l'Europa ed Agatha Christie non è l'unica autrice ad aver ambientato un libro su questo fenomeno viaggiante, ma è sicuramente la più celebre. Benché all'epoca della sua storia, ambientata nel 1933, il treno in questione era in realtà, il discendente del treno dei re. Le immagini che state vedendo sono tratte dal libro Venice Simplon Oriente Express, disponibile nella nostra libreria online. L'autrice è Shirley Sherwood ed è edito da Rusconi. Tratta della storia dell'Oriente Express e della sua ristrutturazione in quello che è l'Oriente Express di oggi, perché effettivamente è un treno che ha subito diversi restauri. Vi lascio con una piccola curiosità, e cioè che Agatha Christie, in realtà al più celebre personaggio di Poirot, preferiva il suo personaggio di Miss Marple. Qui ho una copia di C'è un cadavere in biblioteca, che è però in realtà il terzo volume della serie delle avventure di Miss Marple, che iniziano con la morte nel villaggio. Peraltro, non so se avete letto un libro di recente pubblicazione, mi pare di un paio di anni fa, Il Club dei Delitti del Giovedì, di Richard Osman. Ebbene, c'è un chiaro omaggio alle storie di Miss Marple già nel titolo.